Restate calmi! Mantenete tutti la calma! Qualcuno che frequenta la Monster High ha infranto le regole praticando la stregoneria! Qualunque studente sia stato verrà trovato ed espulso! So benissimo che la pozione è la tua, ma questa volta avrò le prove che mi servono prima di miagolare a tutti il tuo segreto! Chiamerò i migliori detective, l'Associazione Genitori dei Mostri! La AGN! Mamma Medusa dovrà venire qui! Non vedo l'ora di sentire com'era la Monster High per Mamma Medusa ai suoi tempi di nuovo! Tua madre ha mai menzionato il talismano gorgone? La preside non l'ha mai trovata, dobbiamo averlo prima della luna dell'eclissi di sangue per riportare qui la madre di Claude e Claudine! Non l'ho mai sentita parlare di un talismano e conosco ogni sua storia, ma possiamo chiederglielo! Oh, prima che arrivi devo pulire la mia stanza! Oh, aspirapolvere e olio di gomito! La AGM vuol dire che verrà anche papà! Questa nottata sta peggiorando sempre di più! Avrei dovuto dire a papà delle mie stregonerie l'altra settimana, quando l'avevo programmato! Ma poi ha visto la mia pagella ed era così orgoglioso! Continuava a dire che stavo seguendo le sue impronte per ottenere la qualifica di mostro più famoso e talentuoso! Ancora non ci credo che abbiano scelto PFT come acronimo! È così che fanno i vampiri! Una volta deciso qualcosa non si cambia più, anche se è assurdo, superato o ha PFT come acronimo! Per questo è così difficile dirgli che pratico la stregoneria! Ma dovrei dirglielo quando sarà qui, no? Nel mezzo di una caccia alle streghe? Non esiste! È un PFT, deve sempre onorare le regole! Sarebbe lui a despellermi! Allora dobbiamo scoprire cosa diranno durante la riunione! Forza! Vola via!